Quanto è fondamentale rimanere aggiornati nel mondo digital, marketing e social da 1 a 10? E perché proprio 10, amici? Il motivo è semplice, il mondo del marketing e il mondo del digital vanno a 3.000 e di conseguenza anche la comunicazione deve seguire il passo. Quando noi ci rivolgiamo ai nostri target, in realtà ci stiamo rivolgendo a delle persone. Persone che non vogliono in alcun modo essere tediate da iniziative obsolete, da post o prodotti che riguardano trend vecchi cent'anni e quindi di base per chiunque affronti il mondo del digitale o anche per chiunque voglia restare aggiornato sul mondo social media marketing, digital marketing, è importante avere le fonti giuste, è importante sapere dove andare a informarsi e soprattutto è importante farlo. Ecco a voi le 4 migliori fonti per rimanere aggiornati sul mondo digital, marketing e social più un tool per gestirle tutte insieme. Partiamo! Prima coppia di fonti, Social Media Today e Marketing Dive. Perché ve li mettiamo insieme? Perché questi due siti sono in realtà collegati, sono semplicemente due parti diverse di uno stesso gruppo che fa informazione. Allora, Social Media Today e Marketing Dive sono delle istituzioni all'interno del mondo marketing, social media marketing, digital marketing e branding. Perché sono tendenzialmente sempre molto aggiornate in tempo molto reale per quanto riguarda qualsiasi notizia di social, digital e branding. Un altro grande pro che hanno questi siti è quello del fatto che in realtà su questi blog non troviamo solo articoli di notizie, ma troviamo anche articoli interessanti che riguardano magari campagne di branding, principalmente marketing dive, o infografiche e studi che riguardano i digital e i social, principalmente su Social Media Today, che quindi rendono queste due fonti un po' un go-to dove andare per proprio rimanere informato su quello un po' che conta a livello globale per il mondo del social media marketing e del branding. Questi due siti però hanno, queste fonti hanno un contro che può non essere un contro per qualcuno, ma che in realtà poi di fondo rappresenta anche un posizionamento. Sono entrambi i siti che pubblicano tantissimo al giorno e pubblicano anche i micro aggiornamenti di un'applicazione che sta testando una nuova funzione solo su un gruppo di utenti di quattro persone dall'altra parte del mondo che tu dici sì, ok, ma che me ne faccio io con questa informazione interessante, però a volte magari perde soprattutto di rilevanza geografica. Però in realtà questo poi, come vi dicevo prima, rappresenta un forte posizionamento perché tutti noi sappiamo che quando andiamo su Social Media Today, se c'è un aggiornamento in testo o qualcosa, sta là. Là sta. Lo troviamo. Seconda fonte, Marketing Brew. Marketing Brew fa parte di un collettivo che è partito con Morning Brew, una newsletter che fa solo quello, fa solo newsletter, ed è praticamente una delle statue del mondo delle newsletter. Marketing Brew è una sezione e anche essa presenta sia la newsletter, che è comunque molto interessante, sia il blog. In questo video parleremo del blog perché stiamo parlando di fonti. In generale, anche se la newsletter è un buon aggregatore bisettimanale, se non erro, però, grande pregio di questo sito, gli articoli pubblicati all'interno del blog sono estremamente qualitativi, cioè sono proprio, a volte sono delle notizie più riflessioni riguardo grosse tematiche che riguardano il mondo del marketing in generale, chiaramente strizzando sempre un occhio sul mondo digitale. Questo sito però presenta, questa fonte presenta anche un dei contro, almeno per quanto riguarda noi in Italia, nel senso che è un collettivo sempre molto verticale su dinamiche che interessano l'America. Lo sappiamo, l'America solitamente è sempre un po' pioniera di grosse iniziative, ma non è solo l'America che porta avanti i trend, e quindi è bene sapere che quando ci informiamo su questo sito stiamo in realtà vedendo un punto di vista americano. Un altro, non voglio dire contro, è un po' neutro, però anche questo è un'ottica di posizionamento molto forte, a livello quantitativo c'è un approccio molto less is more, cioè pubblicano un numero abbastanza piccolo di articoli settimanali, però sappiamo che quando andiamo a leggere lì ci sono riflessioni molto consistenti. Se siete assidui ascoltatori del nostro podcast Weekly News, se non lo siete fatelo adesso, andate iniziate, perché, insomma, se siete qua vuol dire che vi interessa informarvi, per cui fatelo, vi lasciamo il link in descrizione, quante volte ci avete sentito dire TechCrunch? Anche le varie fonti, Bloomberg, TechCrunch... Ecco, stiamo parlando del terzo, facciamo, gruppo di fonti estremamente importanti per chi lavora nel mondo digital e marketing, che sono The Verge e TechCrunch. Sono fonti quasi primarie, cioè non sono magari blog dei vari brand dove vengono lanciati i comunicati, ma se c'è qualche portavoce di qualche brand, di qualche istituzione che deve lanciare un messaggio, o comunque deve rispondere a delle domande, lo fa qua. Cioè loro hanno contatti con il portavoce di Facebook, col portavoce di Instagram, che gli permette di avere un contatto diretto con le fonti molte volte, e quindi magari esce fuori un comunicato e poi riescono a contattare il portavoce di qualche brand che risponde alle loro domande. Quindi loro hanno la capacità di poterti dire come riporta il portavoce di Facebook, è successo questo, questo e questo. Questo dà molta autorevolezza ai due siti. Di contro però una sorta di... anche questo posizionamento che però può essere non visto benissimo è il fatto che pubblicano una miriade di articoli al giorno, sul sito ci sono tantissime sezioni, già The Verge è leggermente più organizzato, personalmente occupandomi anche della rassegna stampa del podcast di Marketing Espresso, non sono, nonostante ciò, non sono mai, non ho mai trovato direttamente una notizia all'interno del sito di TechCrunch, perché pubblicano veramente tanta roba. Però andando a cercare chiaramente le fonti più affidabili, anche su Google, poi alla fine TechCrunch è dove si finisce sempre e si ha la certezza che quello che si legge è quanto più vicino a quello che è stato comunicato, quanto più vicino al fatto. In aggiunta, non sono mai articoli brevi, non sono mai articoli che riportano il fatto e basta. La prima parte dell'articolo è sempre spesso dedicata al fatto, ma la parte sotto è anche forse la più importante, perché contestualizza molto bene il fatto e si lascia a volte andare anche a delle riflessioni, sempre basate su dei fatti collegate, per cui con degli hyperlink all'interno del blog, che sono sempre molto utili per dire ok, forse la situazione è posizionata in questo modo. Abbiamo visto le più importanti adesso, però le fonti sono tantissime che potete utilizzare, ci sono anche le sezioni magari delle testate giornalistiche più importanti, come per esempio la BBC, che ha una sezione social, la CNN anche. Sono tante e quindi come possiamo in qualche modo tenerle più o meno tutte sotto controllo? Tramite questo tool che è completamente gratuito e che è veramente un salvavita in ottica di tempo, perché si chiama Feedly, è un'applicazione totalmente gratuita che crea un feed formato da tutti gli articoli in ordine cronologico delle fonti che voi inserite all'interno di questo tool. Praticamente, questo è per le notizie, ma se nel caso voleste rimanere aggiornati sugli articoli di alcuni blog che magari non trattano notizie, potete farlo comunque. È molto semplice, vi loggate, create le vostre sezioni, ed è molto interessante perché, oltre a crearvi tutte le vostre sezioni, quindi a crearvi un po' la vostra bolla di fonti, vi aiuta anche a uscire un po' da quella che si chiama appunto bolla, cioè ha al centro la sezione Today che è divisa in Me e in Explore. La sezione Me è un po' tutti gli articoli della giornata presi dalle fonti che sull'applicazione tu frequenti più spesso e quindi ti dice, ok, se le frequenti più spesso è perché solitamente hai cliccato più spesso e quindi, ok, è personalizzato su quanto clicchi solitamente. La seconda sezione invece è quella dell'Esplora. L'Esplora è un po' un feed di fonti simili a quelle che avete già inserito nelle vostre sezioni e che avete frequentato tramite l'app, che però non sono quelle che avete inserito, quindi vi permette un po' di spaziare. Diverse volte ci è capitato nella rassegna quotidiana di trovare fonti nuove lì e inserirle all'interno di una nostra sezione che avevamo già creato. Una domanda per voi, qual è la fonte di cui non potete fare a meno per rimanere aggiornati nel mondo digital e marketing? Scrivetela qua sotto nei commenti, così aggiungiamo valore ancora di più a questo video e ci scambiamo un po' di chiacchiere, di informazioni e di fonti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!